carolino i buoni sono arrivati tu lo sai questo è il nostro punto di arrivo la mitica fontanella codoveo ha provato a fare un po le distanze ma come buon grecario ho avuto il nostro amico baffo e ti faccio vedere l'attesa guarda com'è guarda com'è ivano adesso ti faccio inizio a cronometrare incomincia a calcolare il tempo di attesa non voglio dire un quarto d'ora circa ti faccio vedere sono le 15 e 40 adesso aspettiamo i nostri amici Lello Giovanni e quella mozzarella di codoveo non sono questi che stanno arrivando adesso e non sono questi qua adesso vi faccio vedere il risposto non sono questi due qua guarda che distacco hanno avuto lino attendiamo ivano deve andare aprire il locale però per l'amor di cronaca di amicizia resta ancora qui in attesa c'è un tifoso di clodo vetro il balcone ecco ecco un grande tifoso di clodo aspetta anche lui l'arrivo buonasera ciao ecco 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 le che arrivano ecco le labe morte sino eccoli eccoli sono passati più di due minuti come iniziata come iniziata così è terminata così è terminata abbiamo avvocato mozzarella guarda lino guarda lino guarda lino tre minuti di attesa ok per oggi la lezione è bastata il mitico lei ivano ci saluta alla prossima alla prossima a sabato ciao torlo arello ciao 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 lino un saluto anche a te ciao ciao